Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Nella mattinata di martedì 26 marzo, dopo che le luci del Grande Fratello si erano già spente da diverse ore, il fratello di Greta si è soffermato su Varrese spiegando il motivo della sua ira, culminata con calci e pugni diretti anche all'auto dell'attore, io e Monia, la mia ragazza, eravamo tranquilli sul furgone, quando all'improvviso Varrese è venuto da noi provocandoci, iniziando ad applaudire e a sorridere. Gli ho chiesto cortesemente di scendere dall'auto e parlare con me da uomo a uomo, ma lui, rimanendo dentro l'auto, mi rideva in faccia e ha risposto, io non scendo. Volevo solo una conversazione civile, ma la situazione è sfuggita di mano. Ammetto di non aver mantenuto la calma. Mi scuso per tutto, ma è importante sottolineare che non c'erano bambini in macchina perché non avrei mai permesso una cosa del genere davanti a sua figlia. Mi scuso per la mia reazione. Infine, Josh ha difeso se stesso dall'accusa di violenza nei confronti di Monia, per quanto riguarda lo spintone a Monia, volevo solo allontanarla da una possibile rissa perché ero circondato da cinque buttafuori che volevano probabilmente placare la situazione. Non so cosa sarebbe successo, ma dentro di me ho sentito il bisogno di proteggerla. E voi, cosa ne pensate di questo episodio? Esprimete la vostra idea nei commenti e Ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore